Ci fermiamo, poi non conviene, andranno arati. Sorriso amaro per questo produttore di radicchio rosso IGP. Anatta già chiusa è aratro che passerà su queste piante che, come si dice in gergo, hanno filato. Questo radicchio non produce più il cuore, anche se lo imbianchi, resta con le sue caratteristiche vuoto. In quest'altro invece è verde, ti ha trovato verde? Questo potrà anche maturare, ma resta piccolo e non fa il peso. Colpa del cambiamento climatico che ha sconvolto il rito della produzione che prevede tra pianti scaglionati per dare ai consumatori il massimo da fine novembre a fine febbraio. Era piantato dall'ottobre, novembre, dicembre al gennaio, però loro hanno mantenuto le stesse caratteristiche qualitative. Praticamente i gaffi a tutti? Tutti, di tutte le varietà. Il disastro sta colpendo tutti i produttori del biologico che non usano alcuni espedienti che bloccano chimicamente la vegetazione, fermata naturalmente dal freddo e dalle brinate, finora totalmente assenti. E non c'è nemmeno speranza per le prossime settimane, perché vegetando il radicchio perde la sua dolcezza. Adesso con le temperature che vanno su, la luce che aumenta, diventano di foglia non più dolce, non più gustosa, vanno verso primavera con gusto amaro. Ecco perché il suo valore è sensibilmente lievitato negli ultimi giorni. E mentre il consorzio stima con ottimismo nel 30% la perdita media, tra i produttori lo sconforto è molto alto. Un caso come questo, dove ci si è fermati dopo aver prodotto appena un terzo di quanto piantato. Perché tra spianto, imbiangatura, pulizia e taglio, incassettamento, comunque il rapporto costo-qualità non regge. E non va meglio tra i vivaisti già preoccupati per la prossima annata, se continua così il cambiamento climatico. Bisogna vedere con i produttori di seme o quello che è, cosa si può fare o cosa si può raggiungere. Per il momento non abbiamo ancora niente da pensare. Quindi il radicchio di Treviso, perché trovi il freddo, bisogna portarlo a fettere? Eh, bisogna cambiare ambiente. E quindi cosa diventerà? Radicchio di Treviso? Radicchio di Belluno.